Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie per seguirci da casa. Purtroppo oggi non siamo riusciti ad andare in presenza a causa delle disposizioni dovute al nuovo DPCM. Io ringrazio anche il professor Cacciari che ha voluto lo stesso intervenire in questa puntata di questa sera del Festival dei filosofi lungo l'olio. Quindicesima edizione, un'edizione molto importante che ha la svolta sia per quanto riguarda le sorti del Festival che è stato fortemente voluto oltre che dal Comune di Manervi e da tanti altri comuni del Bresciano, anche dalla provincia di Brescia che l'ha supportato in modo, io credo, significativo ed importante perché crediamo assolutamente che Festival di questo tipo oggi più che mai ci devono aiutare e accompagnare anche in un livello di comprensione di ciò che sta accadendo e credo che sempre di più avremo bisogno di confronti, di cultura e di attività di questo tipo. Questa sera purtroppo procediamo in streaming, abbiamo tentato fino all'ultimo di capire se c'erano le possibilità di poter operare in presenza, ci eravamo attivati anche con una sede più ampia di quella dove oggi ci troviamo, abbiamo tentato anche di aiutarci dividendo il numero di persone tra più sedi in modo da poter operare comunque con una presenza personale che anche la cittadinanza richiedeva, purtroppo non è stato possibile e quindi lavoreremo a distanza. Però ritengo che sarà comunque una serata molto interessante, il tema del Festival lo è, come potete vedere Essere Umani è un tema che ci accompagnerà per tutto il Festival dopo quello dell'anno scorso che era il generare, quindi una conseguenzialità probabilmente anche dal punto di vista della visione che questo Festival può portare avanti. Io sono molto curioso di sapere quale sarà di vedere, di seguire la dissertazione del Professor Cacciari e credo che sia per la nostra cittadinanza anche in queste condizioni un onore poterlo ospitare questa sera, quindi grazie al Professor Cacciari, grazie alla Dottoressa Nodari per continuare in modo molto determinato con l'attività che ci sta accompagnando non è semplice oggi continuare a continuare a far cultura, portare avanti delle iniziative come queste e non solo e davvero noi abbiamo voluto fare il possibile per poter continuare ad esserci anche con queste condizioni. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio sin da subito il Professor Cacciari per l'onore della sua presenza e in questo particolare onore di essere collegati e di non aver voluto disdire la sua partecipazione al Festival. Ringrazio il Presidente della provincia, il Sindaco di Manerbio, Samuele Algisi per le gentili parole che ha inteso rivolgere alla Fondazione e davvero per l'importantissimo ruolo che sia come Presidente di provincia sia come Sindaco di questa città ha svolto nell'aiutare questo Festival ormai radicato sul territorio a crescere, a diventare adolescente. Quest'anno festeggiamo anche se in tono minore viste le condizioni di pandemia in cui ci troviamo i primi tre lustri, siamo al giro di Boa quindi dei 15 anni e certamente non potevamo fermarci nonostante tutte le difficoltà come diceva bene il Presidente e abbiamo deciso di portare avanti il Festival. È l'ultima settimana di questa quindicesima edizione del Festival, c'era una serata overbooking già da un mese per il Professore Massimo Cacciari so che in tanti ci stanno seguendo e soprattutto tutti coloro che sono collegati via streaming e poi in differita anche televisiva e non voglio rubare altro tempo. Voglio solo dire che l'incontro di questa sera è cruciale specialmente per il momento storico che stiamo vivendo dove il Professore ci ha consegnato un titolo estremamente come sempre prezioso e importante Essere umani tra Dic e Nomos, due concetti che si completano ed equilibrano l'uno con l'altro quindi il modello greco insegna quanto sia necessario che la giustizia si traduca nella concretezza di misure effettive e che la legge non si regga esclusivamente su un'imperatività priva di passioni. Peraltro il Professore ha scritto con Natalino Irti questo importante libro Elogio del diritto pensatore di grande spicco, io ricordo soltanto che è professore emerito di estetica presso l'Università Vita e Salute Sarafele di Milano, è cofondatore e codirettore di alcune riviste che hanno segnato il dibattito politico e filosofico italiano degli ultimi decenni ha rivolto la sua attenzione alla crisi del dialismo tedesco e dei sistemi dialettici valorizzando la critica della metafisica occidentale propria di Nietzsche e di Heidegger e seguendo la genealogia del pensiero nichilistico nei classici della mistica tardo-antica, medievale e moderna sterminata la sua bibliografia. Ricordo che con il libro Il potere che frena il professor Cacciari è stato insignito della sesta edizione del Premio Internazionale di Filosofia Filosofi lungo l'olio, un libro per il presente, tra gli ultimi libri La mente inquieta, Saggio sull'umanesimo, appunto Elogio del diritto e Le sette parole di Cristo Bene, lascio la parola al nostro importantissimo ospite che ringrazio ancora Grazie professore, a lei la parola Grazie e complimenti al sindaco, alla fondazione e alla provincia per aver voluto comunque resistere Io ritengo che vi siano cose che va bene in qualche modo sottolineare e magari anche denunciare Qualcuno dovrà spiegare, forse perché a manifestazioni sportive ci possa essere una modesta presenza, ma comunque una presenza perché mille persone, cinquecento, possono andare a vedere una partita di calcio di pallacanestro e invece i teatri debbano stare chiusi e le manifestazioni di carattere scientifico e culturale non possono avere luogo Ci sarà qualche misteriosa ragione, ma sarebbe bene che le norme si giustificassero che la legge, il nomos, nomos è il termine greco che noi usiamo tradurre con legge si giustificassero, cioè dicessero le loro ragioni, portassero le loro ragioni le rendessero evidenti al pubblico, si facessero capire Sarebbe il caso che le leggi permettessero di essere lette Altrimenti la loro scrittura rimane misteriosa Chiusa la parentesi, ma sono davvero esasperato di questa situazione quindi il sindaco e gli altri colleghi e amici mi comprenderanno Veniamo al nostro tema Il tema è il rapporto tra diritto e giustizia Sono due termini che come tanti altri oggi nel nostro linguaggio sono diventati una sorta di spugne, assorbono tutto Tutti ne parlano, tutti si riempiono la bocca di queste parole diritto, giustizia, come libertà, come democrazia e che significato hanno? Non si sa più Perché una parola quando diventa polisemica in modo indiscriminato cessa di significare E quindi almeno questo dovrebbe fare la filosofia riportare la nostra attenzione al significato delle parole che usiamo è un compito molto modesto, ma forse indispensabile forse utile in qualche modo Cioè vediamo se ci intendiamo in ciò che diciamo se riusciamo a dare un significato alle nostre parole in modo da intenderci o da cercare di intenderci senza darle per scontate che non lo sono più Perché non lo sono più Ormai è l'esperienza, credo, quotidiana di tutti che non ci capiamo più quando diciamo sei democratico cos'è la legge, cos'è la giustizia sei libero, non sei libero Diritto e giustizia Il diritto, come lo possiamo intendere Il diritto è diritto positivo Il diritto è l'insieme delle norme e delle leggi che ci permettono una convivenza che stabiliscono un accordo tra di noi in base alle quali ci accordiamo Questa è l'unica definizione realistica di ciò che è diritto in base a un diritto sancito in un modo o nell'altro e anche vincolato, vincolante cioè nel senso che se lo trasgredisci vieni punito sanzionato è un insieme di norme che se le trasgredisci viene sanzionato e in base alle quali ci accordiamo volenti, nolenti, ci accordiamo Quindi è chiaro che senza un diritto non ci può essere uno Stato comunque si intende il termine Stato non ci può essere una società anche una società di briganti anche le criminalità organizzate hanno un diritto e anzi si caratterizzano per l'essere assolutamente vincolante di quel diritto perché se tu trasgredisci quel diritto vieni punito drasticamente quindi ogni società per esserci ha bisogno di alcune norme che vengono stabilite da una qualche autorità che viene in qualche modo riconosciuta e i trasgressori vengono puniti nomos dicono i greci nomos indica tutto questo e anche qualcosa di più che nel termine legge compare e non compare nel termine legge che è un termine latino lex compare e non compare il nomos come è stato spesso si esprime questa questa dinamica è una dinamica che si esprime nel termine nomos primo viene indicato la presa del potere la presa del potere nemen in greco che è un termine una radice che ricorre in tanti idiomi indoeuropei come nel tedesco nemen la presa del potere un diritto presuppone che qualcuno abbia preso il potere per stabilire il diritto se io non ho potere che diritto stabilisco posso solo obbedire e disobbedire al diritto stabilito da un altro quindi prima di tutto la legge indica una presa del potere una presa del potere è fondamentale questo perché le leggi vengono fatte da una autorità politica autoritas facit leces ma non basta nel termine nomos risuona anche un altro termine greco nemen come il distribuire una giustizia come dire un diritto distributivo chi ha il potere cosa fa chi ha il potere distribuisce le parti noi dobbiamo stare alla nostra parte che ci viene assegnata dal potere ci sono delle norme che stabiliscono la parte che ciascuno ha nell'intero nell'intero della società la sua funzione i suoi limiti anche i limiti della sua libertà per così dire e i limiti impliciti alla sua funzione nessuno di noi può fare il tutto ognuno ha la sua parte il suo meros direbbero i greci nel tutto di una società di uno stato di una polis di una città eccetera 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 quindi il potere è la legge indica l'assunzione del potere in un modo o nell'altro in una forma o nell'altra non interessa è la forma indica che qualcuno ha preso il potere che un'autorità si è stabilita e quell'autorità legifera cioè distribuisce le parti stabilisce a quale gioco dobbiamo giocare tutto ciò è fattuale no? è fattuale sono dei fatti bastano sono sufficienti per stabilire la dinamica del diritto e no che non sono sufficienti ma non perché vi sia qualche altra autorità o dobbiamo pensare a qualcosa che trascende questa dimensione ma se noi ragioniamo all'interno di questa dimensione vediamo subito che questa dimensione non può essere autosufficiente che questa dimensione rimanda a qualcosa fuori di sé è inquieta come dire non è mai sicura non è mai non si assicura mai a se stessa allude indica qualcosa d'altro si ha questa inquietudine intrinseca che deriva da che cosa? da una serie di problemi vediamoli cerchiamo di vederli di individuarli per quanto possibile brevemente cioè la prima cosa quella autorità che si è stabilita quel qualcosa qualcuno che ha preso possesso che ha vinto che ha vinto e quindi può stabilire il suo diritto positivo perché ha vinto non importa come facciamo dei ragionamenti formali logici può far sì che di non aver passato ha vinto ma prima di lui ha vinto e su quel territorio su quella gente stabilisce le proprie il proprio diritto il proprio nomos e prima può dimenticare il passato può fare come se direbbero i latini consuetudini costumi non fossero può ritenersi un novum una novitas assoluta assoluta cioè sciolta da ogni passato come fa sarebbe come ritenesse di inventare il proprio linguaggio come non ci si inventa un linguaggio così non ci si può inventare la legge perché la legge dovrà in qualche modo considerare anche ciò che la precede consuetudini costumi linguaggio e allora c'è una dialettica un conflitto continuo tra l'autorità che pone il suo diritto e vuole che il suo diritto venga obbedito e che il suo diritto è nuovo perché lei è una nuova autorità e la storia è la storia che non è un morto passato la storia la storia è un passato portante la storia è un passato vivente sempre e quindi si inserisce all'interno del diritto positivo questa straordinaria dialettica con ciò che è il passato di questo diritto e anche coloro che hanno voluto affermare quelle autorità che hanno voluto affermare l'assoluta novità del proprio diritto della propria legge positiva hanno dovuto fare sempre i conti con questo passato o lo hanno o hanno voluto esprimerlo loro questo passato inventandoselo magari non importa ma comunque indicando che loro avevano una radice passata oppure lottando contro quel passato per esempio i regimi autoritari del socialismo reale come si diceva una volta hanno dovuto lottare hanno lottato duramente contro quelle consuetudini quei costumi in Russia in Polonia eccetera eccetera che non avevano niente a che fare con la legge positiva ma avevano profondamente a che fare con quei cittadini che avrebbero dovuto obbedire alla legge positiva ed è stata una delle cause dello sfascio di quei regimi l'aver preteso che la legge positiva potesse fare a meno di riferirsi ed accordarsi con consuetudini costumi quindi cosa vuol dire formalmente questo discorso? vuol dire che ogni diritto positivo ha a che fare con un diritto muto cioè con un diritto che precede quella legge scritta e parlante che è quella del nomos voglio dire che vi è qualcosa sempre nel diritto positivo di pre potente rispetto alla sua norma e questo è ineliminabile e per quanti sforzi il diritto positivo farcia di dire devi obbedire a me soltanto tutti questi sforzi saranno vani perché è impossibile obbedire a qualunque diritto positivo se quello non tiene conto al suo interno in qualche modo della storia del passato vivente della radice portante di una nazione di una gente di una città eccetera eccetera e questo è un ragionamento non è l'appello a qualche valore trascendente non ha nulla di religioso c'è anche il problema religioso certo ma che va inserito in questo quadro nel nostro medioevo fino all'epoca moderna fino alla secolarizzazione come si usa dire dell'epoca moderna contemporanea era evidente almeno in tutta l'Europa l'Europa o cristianità che qualunque legge positiva doveva fare il riferimento a valori in quel caso valori valori di carattere religioso trascendente molti di voi spero avranno visto il grande capolavoro nel palazzo di Siena nel palazzo del popolo di Siena del Lorenzetti il buon governo il grande affresco del Lorenzetti nella sala dei nove il buon governo da una parte il cattivo governo dall'altra il buon governo nel buon governo nell'immagine allegorica del buon governo tu hai la giustizia terrena quella che stabilisce la legge le punizioni le retribuzioni eccetera eccetera sormontata dalla giustizia divina e così hai la figura del comune il senex la figura del comune che ha accanto le virtù cardinali le virtù laiche diciamo così ma sopra ci stanno le virtù teologali quindi per tutto il nostro medioevo per tutto il nostro medioevo fino Dante compreso fino all'epoca moderna c'è il problema di questo rapportarsi strettissimo tra la dimensione del nomos e una dimensione di giustizia che trascende il nomos ma il ragionamento che ho fatto io non è questo è un ragionamento del tutto logico secolare non è possibile intrinsecamente al diritto alla legge positiva dimenticare questa dimensione prepotente rispetto al suo potere rispetto al potere del nomos ci interverrà sempre continuamente inevitabilmente il nomo teta colui che pone il nomos può anche fingere di ignorarlo o di dimenticarlo ma poi ritornerà fuori perché nella logica delle cose non sta in una logica di carta sta nella logica della realtà e il greco sapeva questo molto bene ecco che allora poneva fin dalle origini il problema del rapporto tra il nomos chiamiamolo diritto positivo nei termini che abbiamo detto e questa figura di che che noi traduciamo giustizia una traduzione che non ha nulla a che fare con l'etimo del termine di che di che è lo stesso radice del greco deiknimi deik dik che è la radice di dicere che è la radice deiknimi in greco mostrare cosa faccio quando dico indico indico dico indico il tavolo le nostre parole potranno essere spesso sostituite da gesti no faccio segno indico dico dunque la di che indica indica che cosa dice dice che cosa e dice sua madre dice che si chiama temis temis altra grande figura femminile della grecità queste figure che appartengono ad un orizzonte una dimensione preolimpica preolimpica temis in particolare temis appartiene la generazione prezeus preolimpica è una grande idea è una delle figure delle grandi idee temis non indica come sua figlia dicche temis pone pone impone è il fondamento incrollabile ingenerato e indistruttibile su cui per il greco va ogni volta edificato l'edificio della giustizia e della legge quindi la dialettica alle origini della nostra cultura alle origini elleniche della nostra cultura è questa temis il fondamento ciò che pone l'ordine cosmico cui tutti apparteniamo un ordine precedente ogni nostra parola ogni nostro nome l'ordine cosmico a cui tutti gli essenti appartengono su questo ordine dicche dicche indica questo ordine e ministra di Zeus del re del signore dell'autoritas politica dice 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 a Zeus di rispettare sempre temis che la sua legge che il suo nomos sia sempre non dimentichi mai il riferimento all'ordine cosmico che qui si trascende completamente ma è una trascendenza immanente perché la legge di Zeus deve sempre riguardare a temis è il grande tema della tragedia greca se Zeus dimentica questa necessità da parte della legge che egli pone di riguardare l'ordine posto ab inizio a cui tutti devono obbedire mortali e immortali uomini e dei il regime di Zeus è destinato a crollare prometeo il prometeo di Schileo tu Zeus sei nuovo sei giovane il tuo regime il tuo potere è nato e come vuoi che possa durare a lungo se è nato è debole certamente non sarà eterno per farlo durare per farlo durare se tu vuoi potere se tu Zeus vuoi potere e non vuoi far naufragare il tuo stesso potere dovrai fondarlo e su che cosa lo fondi su diche che indica temis allora il tuo potere sarà fondato tu farai il tuo interesse Zeus se il tuo nomos non sarà soltanto il diritto positivo che impone un signore che fattualmente ha vinto e poi no la tua auctoritas sarà veramente tale se tu comprenderai finalmente venendo meno alla tua supervia alla tua prepotenza eccetera se tu comprenderai finalmente che il tuo regime sarà tanto meglio posto quanto più posto su diche ciò che indica colei che indica la madre temis questa è la grande idea greca che si sviluppa tra filosofia tra tragedia es filosofo quel in particolare e filosofia platone e aristotele il problema della giustizia impostato in questi termini il problema della giustizia la legge per valere davvero lo stato fondato sul suo diritto positivo perché quel diritto sia positivo davvero e possa davvero anche ottenere obbedienza questo signore questa autorità politica questo diritto positivo devono comprendere che per valere cioè per potere cioè banalmente per fare il proprio interesse devono dirmi che cosa qual è la tua idea di giustizia devono rapportarsi ad un'idea di giustizia devono giustificare il proprio diritto l'esigenza di giustificare il proprio diritto non viene da fuori non viene da un moralista che chieda al potente giustificati viene dall'interno del diritto positivo stesso perché quel diritto non sarà positivo se non sa giustificarsi se non sa rendere ragioni di sé se non mi sa dire diciamoli in termini ancora più semplici se non mi sa dire il suo fine se si se si manifesta soltanto come si manifesta nell'antigone di Sofocle creonte si mi sa dire soltanto che il mio diritto è giusto perché perché l'ho posto io che sono il signore creonte farà la fine miserabile che fa e il suo regime si sfascerà è un politico cieco è un signore cieco quello che non comprende che deve saper rendere ragione della sua legge cioè mostrarmi il senso cioè mostrarmi il fine giustificarsi giustizia e allora ecco le grandi costruzioni diverse tra di loro tra Platone e Aristotele Platone la giustizia è il grande tema della Repubblica di Platone della Politeia Platonica come lo affronta Platone e il tema della giustizia in Platone è sostanzialmente quello un regime è giusto quando quando riesce a combinare le diverse funzioni i diversi rapporti i diversi interessi che costituiscono uno stato reale more matematico cioè in termini di perfetto equilibrio li armonizza tutti matematicamente sapete tutti il dio di Platone geometrizza e non si entra nella filosofia e questo dovrebbero capirlo tanti miei colleghi non si entra nella filosofia se non si sa di matematica e di geometria perché? ma perché nemmeno la politica la puoi fare perché la politica per Platone è sostanzialmente armonizzare geometricamente gli umori gli interessi che ci stanno nella città esattamente come il saggio sa armonizzare in sé gli umori che costituiscono il nostro carattere perché noi siamo molti lo sappiamo allora il saggio chi è? chi riesce ad armonizzare secondo numeri perché non posso armonizzare a caso questa è l'immagine del cosmo del Timeo e a immagine del cosmo del Timeo Tetis scusate Tetis Titemi Temis la Dea a cui prima facevo riferimento a immagine di quel cosmo di quell'ordine cosmico l'ordine della città della Politeia e l'ordine dell'anima della mia anima tutto si specchia con il re ogni elemento si specchia nell'altro si armonizza all'altro si sillogizza all'altro questa è la grande immagine di Platone Aristotele è totalmente diverso dice Platone la città dell'uomo non sarà mai il tuo cosmo non sarà mai organizzabile secondo numeri pitagoricamente giusto Aristotele però Aristotele non è che dica allora c'è solo il diritto positivo no Aristotele dice che occorre che la politica si muova secondo un'idea di giustizia e la dice questa idea di giustizia che la legge che c'è la politica e c'è la politica intesa come legislativa legislatrice che fa le leggi cos'è la politica se non quell'attività che fa le leggi dice sì certo tu non arriverai mai ad armonizzare come voleva Platone però un'idea di giustizia la devi avere se vuoi di nuovo che il tuo regime sia solido saldo se no il tuo regime sarà un mero fatto un brutto fatto qualcuno ha vinto sei impossessato dello Stato ha il potere e fa le sue leggi e noi dobbiamo obbedire perché è così e perché se non obbediamo obbediamo puniti questo non sarà un potere saldo è un potere debolissimo questo è il realismo dell'antico ma anche del classico di tutti i classici lo ritroviamo nell'umanesimo nel rinascimento è l'idea di Machiavelli di Spinoza e cosa dice Aristotele a proposito di giustizia dice la giustizia cioè quello che deve dare il senso la prospettiva la legge è questa idea fare e non solo fare amare cioè amare nel senso di tendere a amare e fare di conseguenza il bene dell'altro il bene dell'altro la legge il nomos deve orientarsi verso l'eudaimonia lo stare bene dell'altro cioè noi dobbiamo il giusto è colui che opera per il bene dell'altro non solo perché è buono meglio se è buono ma anche perché ragiona e capisce che fare il bene dell'altro può essergli utile perché è una città dove la gente gli individui non facciano e non attendano al bene dell'altro è una città che non è una città è una coabitazione è un condominio e allora l'amministratore del condominio perlomeno dovrebbe orientare il comportamento dei condomini perché ma perché non si facciano del male ma meglio sarebbe infinitamente meglio per la salute anche dello stesso condominio che i condomini agissero l'uno per il bene dell'altro sarebbe molto preferibile quel condominio sarebbe molto più solido anche come condominio naturalmente il greco come il romano non pensa affatto che lo stato che la civitas che la polis siano dei condomini non lo pensa affatto perché ma perché la polis la civitas hanno ben altri fini che una buona amministrazione ovviamente si dovrebbero muovere su dei progetti su dei fini per l'appunto che non sono soltanto quelli di non rompersi le scatole gli uni con gli altri ma anche ma anche per un fine minimo cioè quello puramente amministrativo che certamente è implicito anche nella legge perché la legge serve anche ad amministrare chiaramente anche per quello non si può fare a meno di una qualche idea orientante e regolativa nessuna giustizia trascendente ma il problema della giustizia che scaturisce dall'analisi logica dello stesso tema e della stessa dimensione del diritto o della legge del nomos positivo questo è il modo in cui secondo me il greco affronta la no il greco in cui il classico insomma quelle 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 quegli autori quelle opere che affrontano con disincanto realismo il tema appunto i temi fondamentali della giustizia del diritto dello Stato hanno affrontato secondo quest'ottica il rapporto tra diritto e giustizia il diritto positivo è chiamato a giustificarsi se vuole avere effettiva auctoritas altrimenti non l'avrà altrimenti sarà accolto sempre come qualcosa di contingente di transeunte altrimenti darà vita a ogni forma di disobbedienza e quindi l'archè politica indurrà atteggiamenti comportamenti situazioni anarchiche perché un'archè politica un'auctoritas politica che non riesce a mantenere un proprio orientamento e non riesce a dare ragioni di sé induce anarchia è la causa fondamentale dell'anarchia naturalmente il diritto positivo nel libro che abbiamo scritto con Irti sono due saggi uno mio che riguarda il tema della Dic e uno di Irti che riguarda il tema del Nomos destino di Dic si intitola il mio destino di Nomos si intitola quello di Irti e nascono quasi a commento del saggio di un grande filologo grecista uno dei più grandi intellettuali filologi del Novecento che è Werner Rieger il grande studioso di Aristotele e non solo dedicato ad un giurista un saggio dedicato ad un giurista scritto durante l'ultima grande guerra intitolato proprio Elogio del diritto in cui parla di Dic e della concezione greca di Dic in termini abbastanza analoghi a quelli con cui vi ho parlato io ma i due saggi quello mio e quello di Irti sono in qualche modo in non dico in contraddizione ma in controcanto perché io svolgo nel mio il discorso che vi ho appena fatto vedendo l'immanenza del tema giustizia nel tema del diritto l'immanenza la necessità logica di affrontare il tema della giustizia parlando di diritto mentre Irti sulla scorta di un grande giurista del novecento che è Kelsen dice il tema della giustizia non è dicibile non è non è articolabile sul piano strettamente giuridico il giuridico la dimensione giuridica ha a che fare inesorabilmente e soltanto con la legge nella sua positività però con due importanti specificazioni che si riallacciano al mio discorso la prima è non mica qualsiasi legge è piano mica qualsiasi legge perché allora si cadrebbe in quelle aberranti posizioni che sono state anche sostenute ma non da Kelsen tra le due grandi guerre e cioè che vabbè anche anche quello nazista è diritto positivo certo che era diritto positivo sancito da un'autorità certo e da un'autorità che aveva preso il potere anche per vie legali non con un'insurrezione rivoluzionaria come non so quello bolshevico allora e allora dobbiamo dire che anche quel è no eh ma qui subento una contraddizione del discorso del positivismo giuridico perché da un lato dice non possiamo parlare di giustizia però non possiamo neanche assumere per buona qualunque legge perché perché la legge deve essere legge l'ex cioè deve deve costituire la possibilità di un accordo all'interno della popolazione cioè non può essere la affermazione di una prepotenza sull'altro perché la legge deve stabilire la possibilità reale dell'accordo tra diversi interessi tra diverse posizioni comunque se invece la legge si presenta come la legge solo di Zeus Zeus vuole questo impone questo e stop che non è neanche la situazione di Creonte attenzione dell'antigone perché Creonte viola certo di che non c'è dubbio Sovocle lo dice hai violato di che però Creonte fa rispettare lo intenderebbe far rispettare una legge della città che aveva il proprio fondamento su un accordo comune e questo spesse volte lo si dimentica leggendo l'antigone si tiene tutti come dire sentimentalmente dalla parte di Antigone ma si dimentica molte volte di vedere fino in fondo la figura di Creonte Creonte non è un dittatore Creonte non è Hitler Creonte viola di che ma viola di che sulla base di una anche di ciò che potremmo dire una consuetudine un costume della sua città perché lui viola di che perché non fa seppellire un tremendo nemico della città un traditore infame un figlio della città che era venuto a conquistare la città a capo di un esercito di stranieri ed era anche abbastanza usanza per quei tempi in Grecia che uno che si comportava così venisse lasciato cadavere preda di uccelli e di cani ma per tornare al nostro tema sempre quindi Irti virgolette virgolette kelseniano con il vero kelsen non dice c'è diritto positivo e bisogna obbedirci fine tutt'altro perché quel diritto deve corrispondere ad un'esigenza fondamentale della legge che è quella di accordarci che è quella di stabilire la possibilità di un accordo tra noi perché se mi viene fuori una legge che invece crea disuguaglianze crea abissi tra interesse interesse quella come si fa ad obbedirvi c'è una legge che crea disaccordo invece che accordo viola il principio base del giuridico che è quello di produrre accordo ma quando dico questo non vedete come già vado oltre la positività del nomos dico che il nomos comunque deve produrre accordo deve essere fonte di accordi non di disaccordi perché il nomos cosa volete che produca guerra civile ma se la legge è del tutto ingiusta produrrà guerre civili quindi in altre forme anche il positivista giuridico non può venire meno a questo rimando immanente alla legge oltre la legge e poi c'è un altro aspetto fondamentale che ti ricorda non direttamente ma implicito nel suo discorso e che riguarda qualcosa che è agli occhi di tutti di cui noi facciamo esperienza quotidiana e cioè che soprattutto dopo l'ultimo grande conflitto e le sciagure inflitte all'Europa il suicidio d'Europa inflitto all'Europa da queste guerre sciagurate da questi regimi sciagurati cosa hanno fatto un po' in tutti i paesi democratici hanno costituito delle corti costituzionali e che cos'è la corte costituzionale qual è il senso filosofico della corte costituzionale un'autorità che vede studia analizza la legge in base a che cosa in base a la legge medesima in base a che cosa in base a dei principi generali stabiliti dalla carta costituzionale e questi principi generali cosa sono diritto positivo sono dei principi generali cioè sono delle idee di giustizia ma le corte costituzionali sono immanenti all'ordinamento giuridico non stanno mica dall'altra parte quindi immanente all'ordinamento giuridico nella sua positività ci sta ora anche formalmente istituzionalmente il rimando ad un idea di giustizia naturalmente se poi le leggi avvengono a caso e la corte costituzionale muta di orientamento continuamente come nella crisi dei regimi democratici sta avvenendo e tutto ciò illanguidisce questa 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 dinamica non traspare più non è più evidente e con la conseguenza che non ci si fida più né della legge che diventa sempre di giorno in giorno più illeggibile confusa caotica sia della corte costituzionale che muta continuamente l'orientamento e quindi la gente non capisce più questa dinamica ma la dinamica in sé nella sua logica era chiarissima dopo le esperienze tragiche della prima metà del novecento tutti i regimi democratici hanno detto eh no occorre che il diritto positivo sia orientato e occorre un potere terzo che mi giudichi se la legge diritto nomos corrisponde a principi di ordine generale sanciti dalla costituzione e questo è avvenuto dove non è avvenuto nei paesi anglosassoni non importa perché lì era fortissimo invece il vincolo alla consuetudine alla norma consuetudinaria che garantisce questo orientamento ancora più saldamente di una carta costituzionale poi alla fine quindi vedete che anche nel ragionamento di Irti che rifiuta di pensare che il giurista possa propriamente parlare di giustizia anche in quello insorge prepotentemente sulla base dell'esperienza storica contemporanea che il nomos la legge per essere legge deve essere ordinata deve essere leggibile deve avere una struttura logica deve corrispondere all'esigenza fondamentale dell'accordo ma anche diritto costituzionale immanente all'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale e lì non c'è niente da che fare si fonda su dei principi vogliamo parlare di questi principi o ce li dimentichiamo se la legge non ha più nulla a che fare con quei principi se la legge non corrisponde più con quei principi se quei principi diventano occasionali casual possiamo riferirci a quei principi o possiamo non riferirci o se il comportamento delle corti costituzionali manca di ogni organicità e sistematicità come avviene nella prassi politica arriva un amministratore che la prima cosa che fa è cancellare quello o dimenticare o cancellare o criticare quello fatto dal precedente intanto che questo avviene in un comune non cambia niente ma quando avviene all'interno delle corti costituzionali o dei parlamenti cambia assai questo è la è il modo in cui io ho affrontato la questione e penso che come dire possa avere un qualche rilievo discuterne dibatterne anche nella nostra attualità non voglio qui chiudo e non voglio fare alcun riferimento in questo quadro generale di ordine teorico tutto teorico logico teorico alla situazione attuale ma direi battuta finale che quello che stiamo vivendo la situazione del nostro paese non in questa emergenza ma ormai da un trentennio a questa parte è assolutamente e totalmente in contraddizione con il discorso che ho tentato di fare e che anche IRTI fa vi ringrazio per questa straordinaria lezione che ci ha fatto davvero calare tra le pieghe dei significati autentici che stanno alla base appunto di questo elogio del diritto grazie anche per averci spiegato il pensiero di IRTI attraverso questa contrapposizione questo doppio come dire questa doppia riflessione la sua e quella di Natalino IRTI assolutamente molto attuale quello che il sostratto il background che lei ha spiegato dovrebbe aiutarci a far capire molto la nostra attualità e se vuole anche come dire fare una battuta sul nostro presente noi volentieri la ascoltiamo noi volentieri vorremmo sentire da lei cosa ne pensa davvero a che punto siamo oggi professore ma quello che era il caso di dire nell'ambito del discorso molto generale che ho fatto insomma è quello che ho detto alla fine direi che è evidente a tutti che le nostre cosiddette democrazie sanno vivono una situazione di grande difficoltà e niente che dire insomma questo diventerebbe una tutto un discorso politico politico che non è il caso di fare in questa sede per aver partecipato a questa quindicesima edizione del festival quindi apriamo in bellezza questa questa ultima settimana l'aspettiamo sin da ora ci permettiamo di invitarla alla sedicesima edizione speriamo di poterla seguire in presenza vediamo 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 l'avrebbero l'avrebbero voluta incontrare e vedere quindi le porto i saluti affettuosissimi di tantissimi molti di tanti molti che la seguono e che apprezzano e che amano quello che lei ci insegna e quello che lei ci trasmette lei è un maestro e abbiamo bisogno di maestri in questa società così disorientata grazie di cuore ringrazio il nostro sindaco e presidente della provincia per averci ospitato qui a Manerbio e per aver sostenuto il festival e aver fortemente voluto che questo festival andasse avanti nonostante la sua natura itinerante la sua natura dinamica con il corpo e con la mente che dire professor Cacciari stasera ci sentiamo con una mente inquieta più che mai come dice il titolo di uno dei suoi ultimi capolavori e andiamo a casa tutti sicuramente più ricchi dentro e con moltissime riflessioni da poter sviluppare grazie professore grazie 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 a tutti